Ultima e decisiva audizione presso la sede dell'autorità del Garante a Roma sull'importante controversia tra Fise e Asi. Come è andata? Oggi c'è stato l'ultimo atto di questa lunga controversia, adesso si attende solamente la sentenza. Nel mio intervento ho fatto e ho rappresentato nuovamente tutte le doglianze di un intero comparto, non solo quelle dell'Asi, un comparto davvero stremato, diciamo che non sopporta più queste pressioni. C'è necessità di cassare completamente il termine esclusiva competenza riferito a delle discipline sportive dal mondo dello sport. Sivo ci farà una pesante sanzione verso la Fise, lei conferma? Sì, rispetto alla sanzione sarà una sanzione pesante, il Garante ha già detto che c'è l'aggravante, quindi andrà al 30% del bilancio. Si può discutere su qualche voce di bilancio della Fise da non considerare. Però questo è un problema che riguarda la Fise, a me purtroppo riguarda perché sono anche un tesserato Fise, quindi quella sanzione toccherà le tasche di tutti noi tesserati. Per quanto riguarda Asi non c'è dubbio che intraprenderà una causa civile, gli zeri sono tanti anche lì perché il danno arrecato al nostro ente è stato veramente pesante, così come tutti gli altri enti di promozione sportiva, ma soprattutto è un danno che riguarda gli stessi tesserati, i comitati organizzatori e tutto il comparto. Questo pronunciamento cambierà radicalmente il futuro degli enti di promozione sportiva? Il ruolo degli enti di promozione sportiva è ben definito. Noi come Asi riteniamo di interpretarlo nel modo corretto, tenendoci ben al di sotto di certe soglie, ma soprattutto di svolgere la nostra attività in maniera funzionale e propedeutica alle attività di vertice. Non ci scordiamo che la maggior parte degli enti di promozione sportiva sono anche ridi associative del terzo settore, quindi possono e soprattutto interpretano lo sport anche in modalità sociali, assistenziali e quant'altro. Quindi è un ruolo diverso. Paragonarlo a volte e stare lì a ragionare troppo sui limiti non si rende veramente l'idea che si tratta di attività assolutamente diverse. Il presidente della Fise di Paola commenta così al termine dell'audizione. Le sentenze si leggono e poi si commentano. Certamente se non ci soddisferà la sentenza, ripeto, si legge e poi si valuta. Con i nostri legali, con lo studio Marini, valuteremo le attività da svolgere a tutela della federazione. Cosa pensa per il futuro degli enti di promozione sportiva? Spero che facciano il loro ruolo di promozione dello sport perché è un ruolo importante e quindi ci auguriamo che lo svolgano nel loro ambito.